Fittizie fatturazioni al fine di evadere l'IRES e l'IVA sarebbero state emesse tra la ENETEC SRL, rappresentata dal patron del Taranto Massimo Giove, e la MAB, rappresentata dall'ex presidente del Brindisi Antonio Giannelli, arrestato nel dicembre 2019 con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Entra quindi anche la città di Brindisi nelle 26 pagine del decreto di sequestro preventivo, nei confronti di Massimo Giove e di sua moglie Anna Albano, oltre a Giuseppe Neglia, nato a Torino ma residente a Brindisi, e titolare della stazione di servizio Cuet presso il quartiere Casale nei pressi dello stadio Franco Fanuzzi. Le indagini avrebbero evidenziato che il meccanismo fraudolento consisterebbe nel far assumere dalla MAB i dipendenti che realmente occorrevano alla ENETEC, al fine di diminuire i costi del personale per l'esecuzione dei lavori condotti in subappalto. Nella documentazione della ENETEC sarebbe stata anche individuata una sorta di autorizzazione mensile a pagare direttamente i dipendenti, sottoscritta da Giannelli in bianco, ossia priva della data e dell'indicazione del mese di riferimento dei pagamenti autorizzati. Gli operanti avrebbero accertato che il meccanismo posto in essere, per poter disporre dopo i bonifici ricevuti da ENETEC di denaro contante, sarebbe passato dal distributore di carburante di Giuseppe Neglia. Giannelli avrebbe eseguito pagamenti a mezzo posto intestati alla Cuet, con il titolare del distributore che poi gli avrebbe restituito le somme in contanti. Un'ulteriore condotta illecita, attuata dagli amministratori della ENETEC, sarebbe, secondo l'accusa, riconducibile all'utilizzo per il 2015 di fatture fittizie emesse dalla Puglia Costruzione SRL, dichiarata fallita dal Tribunale di Brindisi nel novembre 2015. La compagine sociale era costituita dallo stesso Antonio Giannelli e da un suo familiare. A seguito del fallimento alla richiesta di presentare le scritture contabili, Giannelli avrebbe risposto di non avere documenti della fallita in quanto rubati e che la Puglia Costruzione era ferma dal 2013. Questo porterebbe gli inquirenti a concludere che le fatture emesse nel periodo da maggio a settembre 2015 nei confronti della ENETEC sono di natura fittizia. Inoltre, i bonifici risulterebbero accreditati sul conto di banca intestato da Antonio Giannelli, persona fisica.